ciao sono pasquale club manager di open design school e socio syscrack vi parlo da garage di casa mia dove stiamo producendo in collaborazione con tanti professionisti e maker dalla basilicata dalla puglia e dalla campania questi dispositivi quello che vedete qui è un prototipo ed è uno scudo facciale abbiamo intenzione di produrne 500 da donare al 118 lucano questo perché in questo momento c'è penuria di questi dispositivi scarseggiano e gli operatori sanitari ne hanno bisogno per questo abbiamo deciso di dare il nostro supporto con i mezzi ovviamente che abbiamo a disposizione questa maschera che vedete è composta da una struttura stampata in 3d qui dietro di me vedete tre pezzi appena pronti sui quali montiamo una maschera uno scudo costituito da un foglio di pet trasparente un elastico che permette la tenuta sulla testa e poi un elemento in gomma che aumenta il comfort ovviamente non sono dispositivi certificati purtroppo ma in questo momento di emergenza cerchiamo di fare il possibile per migliorare il lavoro e la sicurezza del personale sanitario in tutta italia per questo un in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando questa emergenza e cerchiamo di star di vicino in qualsiasi modo a presto